Ben ritrovati amici di calciomercato.com, oggi per raccontarvi di Renan Lodi, terzino brasiliano dell'Atletico Madrid che è stato un passo dalla Juventus e si può considerare un rimpianto perché sta facendo molto bene con il ciolo Simeone che da subito ha voluto puntare su di lui come titolare al posto di Filippe Luiz, un terzino che sta avendo un ottimo rendimento e che alla Juve è stato proposto ai tempi dell'Atletico Paranaense, uno dei migliori laterali del Sud America che Paratici ha trattato personalmente con i suoi procuratori e con i dirigenti dell'Atletico, poi si è scelto di non fare un investimento così oneroso su questo ragazzo, adesso l'Atletico lo sta decisamente valorizzando, la Juventus continua naturalmente ad apprezzarlo, lo ha fatto anche dal Versaio in Champions League, ma Renan Lodi poteva essere bianconero, è stato davvero molto vicino, gli sarebbe piaciuta molto un'esperienza italiana, adesso se lo go, l'Atletico Madrid.